Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Il sindaco Seri tranquillizza la cittadinanza, nel cantiere ex Agip nessun pericolo Fumata grigia in carnevalesca per l'ingresso a pagamento, decisione rinviata al prossimo 5 ottobre Alla Capitaneria di Porto di Pesaro arriva l'ammiraglio Ferrara, elogi al comandante dal personale civile e militare Torna la settimana africana con incontri in musica e laboratori sul continente nero Tutto pronto a Pergola per la 22esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Buonasera cari spettatori di Fanno TV, benvenuti a Occhio alla Notizia Ieri sera c'è stato un seduto del Consiglio Comunale particolare con diverse questioni Nodo cruciale dell'amministrazione Sentiamo com'è andata proprio dalla voce del sindaco Massimo Seri Allora ieri c'è stato un Consiglio Comunale che aveva molte voci all'ordine del giorno Com'è andato? Quali sono le risultate? Beh il Consiglio è andato bene, abbiamo deliberato tutti i punti all'ordine del giorno C'erano alcuni punti anche importanti come il lodo Serafini, la questione di Aset Entrate alla luce della revoca della concessione, dell'iscrizione all'albo dei concessionari Da parte del Ministero alla Duomo GPA In questo caso specifico con la delibera di ieri abbiamo dato mandato agli uffici Di fare un affidamento provvisorio in sostituzione del socio privato Per garantire la continuità del servizio Ci siamo dati due anni di tempo ma vorremmo farlo in un anno La ridefinizione di Aset Entrate decidendo se proseguire con lo stesso criterio Quindi ribandendo una nuova gara per cercare un partner privato Che sia l'esecutore dell'operazione di discussione e gestione dei tributi O la reinternalizzazione del servizio Per cui adesso questo era il primo passaggio fondamentale per tutelare anche chi ovviamente ci lavora Il prossimo passaggio sarà sempre in Consiglio Comunale Per la definizione di quale percorso intraprendere, quale strada, quale scelta politica fare E poi tutta l'iter burocratico-amministrativo Cercando di farlo e contenerlo entro l'anno E un altro aspetto oltre al Lodo Serafini e alla vicenda della Duomo GPA Al vaglio ieri sera, a seconda delle visuali che si possono avere su questo aspetto Ma sicuramente l'opposizione ha acceso i riflettori anche lei su questo aspetto Il cantiere ex Agip è sotto gli occhi di tutti, fermo Un'interrogazione dei 5 Stelle ha chiesto l'UMI al primo cittadino proprio su questo aspetto Sentiamo dalle sue parole che cosa è al momento attuale lo stato della situazione Sindaco, allora facciamo un po' il punto della situazione sull'area ex Agip Portata in Consiglio anche con un'interrogazione dell'opposizione Sì, è giusto dare informazioni, evitare allarmismi quando non ci sono È una zona sensibile, vicino ad una scuola anche elementare Le operazioni di smantellamento sono partite come tutti hanno visto Le operazioni importanti sono già terminate E l'aria messa in sicurezza Le operazioni prevedevano lo smantellamento della platea Dove avveniva il rifornimento dei carburanti Ma soprattutto anche la rimozione delle cisterne che erano sete Le operazioni sono andate tutte bene In un tratto, nella parte fra l'altro meno preoccupante È stata riscontrata una contaminazione di idrocarburi Ma in una profondità tra i 4 e i 7 metri In questo momento è stata reinterrata Quindi non c'è nessun problema di esalazione e di infiltrazione Adesso è sotto l'esame di ARPAM Per verificare quali tipi di idrocarburi siano E poi per definire l'intervento per la bonifica definitiva Ma parliamo di una piccola parte circoscritta Tutto il resto è già stato bonificato Quindi veramente vogliamo tranquillizzare E essendo in questo momento reinterrato I problemi proprio non sussistono Per chi vede i lavori invece al lato della strada Quello è un cantiere aperto da Aset Perché durante i lavori Venendo, quando è stata rimossa la platea È venuto giù una parte della rete fognante Che adesso, dico per fortuna Perché era fragile, veniva sorretta da questa Quindi stanno procedendo i lavori di risistemazione della rete fognante E quindi quello è anche un intervento a favore della città Quindi mi sento veramente di tranquillizzare tutti quanti Non ci sono alcun tipo di pericoli Adesso in base anche alle normative Si definirà per quella parte piccola circoscritta Ove c'è stata questa piccola contaminazione Alla luce anche degli esami Decideremo quale percorso fare Però ecco, ripeto, non ci sono alcun tipo di problemi Ecco, l'area contaminata Non è quella dello scavo aperto Che vi abbiamo mostrato anche nelle immagini Come avevamo anche detto precedentemente in un servizio Ma è l'area coperta Quindi non è a cielo aperto l'area contaminata Bene, cambiamo argomento Andiamo a Pesaro Dove questa mattina in Campitaneria di Porto Si è vissuto una mattinata Una giornata particolare dall'alto significato istituzionale Perché è arrivato il direttore marittimo delle Marche L'ammiraglio Ferrara Iniziativa Mare Sicuro e operazioni di polizia giudiziaria Per il rispetto delle leggi in materia di utilizzo e fruizione del mare E dei suoi fondali Sono le attività che in questa estate Hanno contraddistinto l'azione di prevenzione e contrasto Degli uomini delle Capitanerie e Dipartimenti Marittimi Della Marina Militare Italiana Temi toccati anche questa mattina Durante la visita istituzionale Alla Capitaneria di Porto di Pesaro Da parte del direttore marittimo delle Marche L'ammiraglio Ferrara La cui presenza a Pesaro Segna un riconoscimento di alto profilo professionale Per gli uomini e le donne in servizio Ed il loro comandante Noi abbiamo dei compiti di polizia giudiziaria Che come sapete sono riferiti alla repressione dei leati marittimi E poi alla tutela dell'ambiente marino Alla tutela delle risorse ittiche E più in generale comunque A quello che può essere la condotta illecita Nei confronti dei bagnanti Oppure delle regole che sottengono la sicurezza della navigazione È un compito anche questo molto importante Che svolgiamo con personale altamente professionalizzato Quindi che conosce bene i propri compiti Cerchiamo di svolgerlo anche questo con intenti non repressivi Cioè andando molto sulla prevenzione e sull'informazione Quest'oggi è un giorno particolare La visita dell'ammiraglio rappresenta per voi Un momento di grande entusiasmo E soprattutto anche di grande soddisfazione Assolutamente è un onore per noi Avere oggi a Pesaro Il direttore marittimo delle Marche Quale titolare di una compagine Che esprime sul territorio Anche su quello pesarese È un'efficace azione di coordinamento Di quelli che sono dei servizi fondamentali Espletati nel territorio di giurisdizione Dal corpo della Capitaneria di Porto In particolar modo per la Capitaneria di Pesaro In diverse attività istituzionali Ad esempio la salvaguardia ambientale Quella ad esempio la tutela della fauna ittica E anche la commercializzazione dei prodotti ittici Quindi siamo particolarmente onorati di questa presenza E un altro argomento che ultimamente ha fatto discutere a Fano Che riguarda una delle manifestazioni di punta della città Ovvero sia il Carnevale Era proprio l'aspetto a pagamento sì o a pagamento no Bene, ieri sera c'è stato oltre al Consiglio Comunale Il CDA della Carnevalesca Dove questo era un argomento da toccare Sentiamo dal Presidente come è andata anche in questo caso Presidente, allora ieri il Consiglio Fumata nera, fumata bianca Qual è stato l'esito dell'incontro che avete avuto del Consiglio? La fumata è grigia Diciamo, nel senso che dallo studio che Luca Cardarelli Il nostro consigliere ha fatto La cosa è molto complessa È molto complessa perché ovviamente le leggi sono totalmente cambiate Rispetto all'ultima volta in cui il Carnevale si pagava Quindi è tutto molto complesso Di conseguenza ci siamo riservati di incontrare prima il Sindaco Condividere con lui le varie opzioni Pagamento o non pagamento E decidere insieme perché effettivamente anche a livello economico Entrambe le soluzioni sono molto onerose e molto impegnative a livello organizzativo Però mettere il pagamento ha degli oneri e degli onori in più Quindi lo dobbiamo condividere con lui Quindi il 5 di ottobre faremo un altro consiglio E lì credo che dovremo per forza decidere Perché poi dobbiamo andare in assemblea per approvare il bilancio preventivo 2018 Quindi dovremo già avere le idee chiare Ecco, orientativamente se è possibile un range, una fascia State pensando anche a un importo perché anche su questo si va dall'euro ai 10 euro Insomma anche qui penso che un ragionamento lo abbiate fatto Sì, il ragionamento è fatto E ecco, diciamo che il discorso del E ma un euro a testa sono per 50.000 persone Sono discorsi un pochino superficiali Nel senso che in realtà non è così Perché facendo pagare si innescano dei meccanismi ben diversi Anche di aliquote, di tasse e di tanto altro Quindi non è così semplice Sicuramente contando che a 100 si paga 15 euro Ed è un carnevalino insomma che col nostro non ha nessun Quindi io penso che potremmo essere sui 10 euro per i turisti E poi troveremo un modo per i fanesi di avere delle agevolazioni Assolutamente perché poi alla fine diciamo La discussione tra fanesi Una persona che viene da fuori al carnevale E pagare 10 euro non ha nessun problema Quindi sicuramente per i fanesi troveremo una soluzione Che possa essere condivisa il più possibile Ecco, però d'altronde dovete capire che Il carnevale non è più quello di 20 anni fa Le cose sono cambiate, tutto è più oneroso E quindi bisogna che tutti un pochino Se veramente teniamo il nostro carnevale Partecipiamo con una piccola quota Non sarebbe male se per aggirare un po' l'ostacolo Tutti quanti un po' in città partecipassero Sottoscrivendo la tessera alla carnevalesca Forse il tutto si potrebbe risolvere un po' diversamente Ma sicuramente ho sempre detto Se tutti i fanesi che nei momenti di enfasi Si freggiano di essere fanesi E di avere il carnevale Che vogliono il carnevale Si tesserassero con 10 euro all'anno Che per ognuno di noi è niente Il carnevale sarebbe libero da tutto Sarebbe libero dai finanziamenti Anche del comune e della regione Che sono quelli più, diciamo, assodati Quindi sarebbe molto semplice Il carnevale sarebbe veramente nostro Purtroppo però questa cosa Non so perché ancora non passa Spero che i fanesi capiscano Che se sostengono il loro carnevale Loro saranno gli autori di questo carnevale Perché il carnevale è di tutti noi Il carnevale di tutti E naturalmente dei fanesi soprattutto Bene, considerazioni interessanti del Presidente Vedremo come andrà a finire E torniamo alla cronaca Ieri sera e anche questa mattina Ci sono arrivate molte segnalazioni Che ci informavano E chiedono spiegazioni sul motivo Del volo di diversi elicotteri Nella serata appunto di ieri Avanzando anche ipotesi Sul perché di questa presenza Ebbene il tutto è stato presto spiegato Abbiamo approfondito la cosa E possiamo dirvi che Non erano altro che Esercitazioni di volo notturno E addestramento al suolo di unità Del settimo reggimento Avviazione dell'esercito Vega di base a Rimini Queste esercitazioni di routine Avvengono nel perimetro aeroportuale di Fano Già da tempo Questo perché Naturalmente questo tipo di operazioni Necessita di un'area di sicurezza Sorvegliata E la vicinanza anche dell'aeroporto di Rimini Con quello di Fano Poi ne fa un altro motivo di rispetto Per Fano Meno strada gli elicotteri devono fare Per raggiungere il quadrante operativo E meno costi Naturalmente vanno di conseguenza Nella giornata di ieri L'esercito italiano Ha operato su Fano In tre momenti differenti Nella mattinata Nel pomeriggio E appunto in serata Con due elicotteri altamente tecnologici Di ultima generazione L'NH-90 Frutto anche dell'ingegneria italiana E due A-129 Mangusta Come supporto aereo Alle truppe a terra E ora veniamo alla ricca pagina degli eventi Di questa edizione del telegiornale Iniziamo dalla settimana africana regionale Che naturalmente come ogni anno Si tiene qui a Fano Dall'1 quest'anno al 7 di ottobre Sentiamo il ricco programma Spettacoli Spettacoli, cinema, musica, laboratori E testimonianze sul continente africano E le sue criticità Ed il suo infinito fascino Si dice che chi torni dal continente nero Soffra di mal d'Africa E a giudicare dagli sguardi Dei volontari dell'Africa Chiama Che tornano dalle loro missioni Si direbbe proprio Che questa saudage africana Esista per davvero Ma l'Africa soffre di mali atavici Ancora nel ventunesimo secolo Carestia, siccità, malnutrizione e guerre Sono ben lontani dall'essere debellati E di flussi migratori Ai quali stiamo assistendo Ne sono una grande testimonianza Lo scopo della settimana africana Ogni anno Da ben 22 edizioni È sempre lo stesso Accendere i riflettori E scuotere le coscienze Su questo continente Che deve essere aiutato A camminare da solo Come dice l'inossidabile presidente Della ONLUS fanese Aiutiamoli a casa loro L'Africa deve essere fatta dagli africani Speriamo che Il programma che abbiamo allestito Con tanta fatica Possa interessare Possa richiamare l'attenzione Sui problemi Ai quali cerchiamo di dare Una soluzione in Kenya Tanzania e Zambia Con i nostri interventi umanitari A favore di circa 18.000 bambini E ragazzi In grave difficoltà Una settimana che offre Tanti spunti E approfondimenti Tra le pieghe Di un programma Fitto e completo La settimana africana Si conclude come ogni anno Sabato 7 ottobre Ai giardini del Pincio Partiremo dalle 16.30 Con laboratorio di attività Per i bambini E musica Con il coro gospel Suoni del mondo Unisensus Sista Ila E il gruppo Diciamo così Più atteso Che ci farà ballare Il rumba De Bodas Ovviamente ci sono poi Tantissimi altri appuntamenti Che potete però visionare Con calma Attraverso il nostro sito internet Che è www.lafricachiama.org E vi aspettiamo E come sarebbe una partita Scacchi tra Giordano Bruno E Papa Clemente VIII Lo possiamo scoprire Andando alla sala vede Del teatro della fortuna Domenica sera Vediamo Presidente Un appuntamento ormai ricorrente In quest'anno invece Che cosa avete pensato Di proporre alla città? L'Accademia Vitruvio Quest'anno propone Una rappresentazione teatrale Sono dieci anni Che offriamo alla cittadinanza Un evento culturale Quest'anno Questa rappresentazione teatrale Si intitola Una partita scacchi Ed è un immaginario incontro Fra Giordano Bruno E il Papa che lo mandò a rogo Nel 1600 Fra l'altro fanese Aldo Brandini L'idea è di Gerardo Picardo E il dialogo che si svolge Fra i due nemici amici È quello di Argomenti filosofici Intorno alla natura Addio alla libertà La compagnia teatrale È lo spazio T di Alghero Il tutto sarà preceduto Da una breve introduzione Del professor Egidio Senatore Curatore e autore Rai Cultura Che ci parlerà Della figura di Giordano Bruno In termini europeistici L'ingresso è libero Domenica pomeriggio Alle 17.30 Presso la Sala Verdi Del Teatro della Fortuna Noi ci auguriamo Che la cittadinanza Risponda A questo nostro sforzo E credo che l'occasione Sia opportuna Per un divertimento Domani venerdì 29 settembre Alle ore 18 La cooperativa educativa Perseo Onlus di Acqualagna Apre le proprie porte Alla cittadinanza Per far conoscere Le proprie attività Ma soprattutto I propri ragazzi Dopo una breve presentazione Della struttura Che ad oggi ospita 11 minori Sarà possibile visitare La nuova sede Che permetterà Di accogliere Sette ulteriori ospiti Al suo interno Si potrà rivivere La storia Dei primi tre anni Della vita Della comunità Per l'occasione La cooperativa Presenterà La collaborazione Con l'Istituto Per la Musica Armonia Di Urbino E la comunità Offrirà Tre borse di studio Annuali A ragazzi Del territorio Del Monte Feltro Particolarmente Meritevoli Che saranno Individuati Dalla cooperativa E dall'Istituto Per la Musica Animerà La serata Il duo Stereo Rebus Di Napoli Inoltre Durante la serata Verrà proiettato Il cortometraggio Girato E interpretato Dai ragazzi Della cooperativa Intitolato Mari dentro L'evento Si concluderà Con una cena A buffet A proposito Di cena E di mangiare Andiamo incontro All'autunno E con l'autunno Naturalmente Il fiorire Del re Della terra Il tartufo E quindi Partiamo da Pergola Dove sta per prendere il via La ventiduesima Fiera nazionale Del tartufo Bianco Pregiato Di Pergola Che appunto Apre la stagione Del tartufo Sindaco Allora Pergola Si appresta A vivere Un altro anno All'insegna Del tartufo Ormai per voi È diventato Un appuntamento Clou Della vostra Annualità Sicuramente Un testimonial Della nostra città Il tartufo Pregiato D'altronde Pergola È una delle città Di territori più grandi Dove si cava tartufo Tutto l'anno E molti turisti Provenienti dalle diverse regioni italiane Ma anche dall'estero Attendono appunto Le tre Le prime Tre domeniche D'ottobre Per l'apertura in grande Delle fiere nazionali Del tartufo O italiane dedicate appunto A questo prezioso tubero Della terra Ecco Giocare d'anticipo Alle volte Ha i suoi vantaggi Però Occorre mettere in piedi Un calendario Importante Quindi voi avete Una sfida bella Importante Da giocare Un calendario importante Per cercare Di soddisfare I diversi Turismi Che raggiungono Pergola Da chi ama Lo sport Chi ama La natura Chi ama L'anagoastronomia Ma chi ama La cultura E la storia Per cui i nostri pacchetti Cultura e cucina Con la possibilità Di degustare Il tartufo Prezzi popolari Nella piazza del gusto E contestualmente Visitare la città Contestualmente Non ci siamo dimenticati Di un'area Divertimento Spettacolo Eventi Oppure i più piccoli 450 metri quadrati Destinati alla cosiddetta Piazza del volo I bambini Troveranno Per avvicinarsi Appunto Alla cultura aeronautica Un aereo In una piazza Della nostra città E tutta una serie Di attività Dedicati al mondo Dell'aviazione Grazie alla collaborazione In questo caso Dell'aeroclub di Fano L'aeroclub d'Italia E l'aeronautica militare I nostri angeli del cielo Coloro che Quando siamo in difficoltà Ci vengono In soccorso Ebbene Noi vogliamo premiare Quegli angeli del cielo Proprio a Pergola Durante la fiera nazionale Del tartufo Bianco pregiato Quante giornate Come si inizia Tanti espositori Chilometri di espositori Come sempre Immagino Un chilometro lineare Di espositori 4200 metri quadrati Destinati Alla fiera Dei prodotti tipici E 4000 metri Ad una fiera commerciale Quindi ce n'è Per tutti i gusti Bene A vederle lì In bella mostra Quelle trifole Sicuramente Facevano pensare Al loro profumo Bene Questa era l'ultima notizia Che vi davo Grazie per essere stati In nostra compagnia Lì vedete in sovraimpressione Il numero Per le segnalazioni 338 49 68 250 A vostra disposizione Come sempre E come sempre Di tutti quanti Oltre che dei nostri Reporter di strada Per segnalarci Tutto quello che avviene Attorno a voi Bene Grazie per essere stati In nostra compagnia Vi lascio alla prosecuzione Con i nostri programmi E l'informazione Torna domani mattina Alle 7.30 Con occhio ai giornali Buona serata a tutti voi Laszuki Grazie a tutti Grazie a tutti.